L'imprenditoria e la moda di Alberta Ferretti, il teatro e la direzione artistica di Gianni Tangucci, il management innovativo di Alicia Ciarri, l'arte del restauro di Viola Ceppetelli. Quattro declinazioni di successo per i quattro premiati della 37esima edizione del riconoscimento del Circolo della Stampa che dal 1964 conferisce il tributo di Pesaro alle storie di genialità di chi nel peserese c'è nato e cresciuto o da chi è stato adottato. Personalità celebrate ieri dal folto pubblico di Palazzo Montagna Antaldi, a cominciare da Alberta Ferretti, stilista e imprenditrice nata a Gradara e premiata per la capacità di aver saputo sempre raccontare con le sue creazioni l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Devo dire che è emozionante, ho ricevuto altri premi, ma essere qui oggi è molto bello perché quando nasci in un luogo e ti sembra tutto così normale e spontaneo e poi proprio perché sei fortunata, perché hai vissuto bene, continui a vivere bene, vieni anche premiata per il tuo lavoro, ti viene riconosciuto, è bello, glielo posso assicurare. Io nasco in questi luoghi e forse la fantasia che ho, la creatività che ho è data proprio da questo territorio che è un territorio ricco d'arte, di cultura, di passione, di artigianato e anche di umanità ed è per questo che sono rimasta a vivere su questo territorio, anche se il mio lavoro mi porta in giro per il mondo e la mia azienda è qui, è fatta di persone che hanno fantasia, creatività come me, hanno l'anima, sono umane e io più che chiamarla un'azienda la chiamo sempre la mia famiglia. Premiato anche Gianni Tangucci per la sua lunga carriera da direttore artistico delle massime istituzioni culturali italiane dal Teatro Reggio di Parma al San Carlo di Napoli. Sono tantissimi, più di 50 anni che non sono a Pesaro, ho fatto la mia vita artistica sempre fuori sempre tornando comunque a Pesaro con la famiglia finché c'erano vivi i genitori. È chiaro che mi ha fatto piacere, inaspettato mi ha fatto maggiormente piacere quando ho cominciato a ragionarci sopra perché sono stato sempre un po' a parte anche di tutte le manifestazioni pubbliche e così. Sono un uomo di teatro che è stato sempre in palcoscenico e dietro le quinte. Io ci ritorno sempre, le mie vacanze le faccio quasi sempre qui in agosto proprio per stare in contatto con la produzione del festival ROF. Difatti una soddisfazione quando giri per le capitali della musica come è stato durante il mio lavoro, quando ti chiedo dove sei, io abitando a Venezia, se è Venezia no, sono di Pesaro, automaticamente gli addetti ai lavori Pesaro ROF. E quindi è una soddisfazione di portare questo messaggio in giro per il mondo. Premio che è andato anche da Licia Ciarri, General Manager di eBay Italia. È un eBay appunto a proposito di comunità, è una comunità estremamente dinamica, non siamo nuovi perché abbiamo 27 anni di vita ma siamo in continua evoluzione e siamo un marketplace globale ma siamo anche estremamente radicati nel territorio italiano ed è per questo che c'è un team in Italia che si occupa di dare opportunità di business alle imprese italiane e insomma anche le imprese pesaresi o marchigiane, insomma sono molto contenta di essere qui anche per dare spunti di imprenditorialità e di opportunità economica per il territorio locale. Quindi è molto bello essere qui. Circolo della Stampa che ha onorato anche il lavoro della fanese Viola Cepetelli affermata restauratrice dei capolavori dei Musei Vaticani. È un bellissimo lavoro, soprattutto si lavora con opere d'arte di altissimo livello da Raffaello, Leonardo, Caravaggio per quanto riguarda il restauro dei dipinti. Sugli arazzi e sui tessuti si lavora con opere di grandissimo pregio. Io ho restaurato gli arazzi degli Atti degli Apostoli di Raffaello e sono opere bellissime che difficilmente in un altro contesto si avrebbe la possibilità di restaurare. Sono rarissimi esempi di questa qualità di un prodotto così alto.